La manifestazione è finita. Vi diciamo i cani che sono a richiamo e possono essere in piacetica. Allora abbiamo cinque cani a richiamo. Ottone di Cassinacroce, Bracchitaliano di Pirocchi. Attilio, Spinone di Ciolli. Zirio, Bracchitaliano di Volcato. Cevo di Cassinacroce, Bracchitaliano di Fognolo. Ulisse di Cadamassino, Bracchitaliano di Macari. Questi sono i rifiuti.